ecco la mia la mia vela con toni in volo vediamo se riusciamo a seguirla un po' guarda è un po' stinta effettivamente come colori da quando era nuova Luigi non so se hai la radio accesa comunque basta che esci fuori e poi è tutto aperto via la direzione la fine la fine la fine Grazie. Mi vede in dinamica. Sembra che sia di nuovo calando. Sta calando! Grazie a tutti. La Laura che sta arrivando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Laura attaccati bene perché sta un po' calando, quindi guarda bene se sali o meno. Grazie a tutti. 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 2 delta 2 2 delta 2 Megicar Afford Trurb vieni su e si scende qua e che è? così di colpo ecco, va meglio sono un cuco calamoroso ecco questa Luigi che bella c'è un pizzico è più figa ecco ecco